Grazie alla convenzione firmata a Teramo, Tramote e Comieco, il Consorzio Nazionale Recupre e Riciclo dell'imballaggio a base cellulosica, dal 1 luglio del 2022 nell'impianto di Sama Marketing ed in Contrada Salare a Basciano sono state conferite diverse tonnellate di carta e cartone provenienti da diversi comuni della provincia di Teramo. Sì, rientriamo nel sistema di conferimento del Consorzio Obbligatorio Comieco, eravamo qualche anno fa già presenti con un accordo che poi avevamo in qualche maniera bypassato perché volevamo soltanto avere una risposta di mercato sui conferimenti. Adesso abbiamo unito le due esigenze, il mercato per quanto riguarda i costi di conferimento e l'opportunità perché una società pubblica sia all'interno di un sistema consolidato e istituzionale. Intanto l'Abruzzo anche nel 2021 con 73.000 tonnellate ha confermato gli ottimi risultati conseguiti nel 2020 e oggi è stato reso noto il 27esimo rapporto annuale Comieco, raccolta, riciclo e recupero di carte e cartone in Italia, dal quale emerge che Chieti è la provincia più virtuosa per quantitativi raccolti e una media pro capite di 61,2 kg abitante anno, superiore alla media nazionale. Inoltre la società a terra un ambiente che per il mote si occupa della gestione di trasferenza negli ultimi anni sta lavorando per aumentare il più possibile la percentuale e la qualità della raccolta differenziata. Si rientra in un istituto come quello della Comieco che è di carattere nazionale. Lo dicevo prima, sembra quasi un ritorno al passato perché oggi in questa era innovativa dove la tecnologia la fa da padrona parlare di carta sembra quasi parlare del passato. Non è così. Le cose importanti si firmano e si firmano sempre su un pezzo di carta. La Comieco ci permette di poter pianificare ed organizzare una raccolta, un riciclo in modo da risparmiare il territorio che ad oggi abbiamo consumato abbastanza. La terroambiente sta anche lavorando per modernare i propri mezzi? Sì, la scorsa settimana abbiamo avuto un altro nuovo mezzo, altri ne abbiamo presi. Stiamo aspettando anche che si torni da questo periodo estivo e festivo per poter dare spazio anche all'informazione in merito a queste cose.